E' venuto l'8 settembre e da lì abbiamo incominciato a racimulare qualche cosa ma senza pensare a cosa potesse venire in futuro e che mi ha un po' meravigliato è stato quando Mussolini si sia aggregato ai tedeschi. Io che nello sport ho sempre avuto una certa antipatia verso i tedeschi perché oltre essendo nativo friulano noi siamo rimasti invasi dei tedeschi, mi ricordo loro avevano 8 anni, lo so tutte le angherie che hanno fatto. E dunque mi è rimasto un po' il dente avvelenato e allora, dico la verità, io ero iscritto al partito fascista come molti, molti italiani vorrei dire, moltissimi. Da quel momento ho detto no, qui Mussolini sbaglia tutto, io non mi sento di collaborare con i tedeschi e ho buttato via la tessera e guarda che io non mi sono mai dedicato alla politica, mi sono sempre dedicato allo sport. e anche allora ero iscritto al partito, mi hanno iscritto dopo che erano schiuse le iscrizioni da 3 o 4 anni mi hanno iscritto per la mia attività alpinistica perché facevo alpinismo, altrimenti forse sarei rimasto fuori come tutti gli altri. Ad ogni buon conto mi sono subito aggregato con questi e poi dopo quando ho saputo che Mussolini si era aggregato come ho detto prima i tedeschi, maggiormente mi sono... e dunque io lavoravo con Osvaldo Cariboni socialista fervente, anche antifascista da sempre e con lui ci siamo aggregati un po' con quelli di Colico perché lui era nativo di Colico e tutte le sue principali amicizie le aveva là e lui lavorava molto a Colico con i partigiani, aiutava e allora anch'io con lui collaboravo però avevamo fatto il nostro gruppo qui a Lecco non tutti i arampicatori avevano aderito, però molti arampicatori e non arampicatori e abbiamo formato la nostra sede, il nostro gruppo era i Piani dei Sinelli che epoca era già? era sempre nel 44 questo nel 43? nel 43? no, ma proprio, sì, ma che si è svolto il gruppo prima sono stati i primi approcci, però il vero e proprio è stato nel 44 quando dopo si è costituito il comando il comando che dopo sono stato invitato da Ulisse e dal povero colonnello Morandi tutti e due poveri perché sono morti tutti e due per la verità e mi ricordo che ci trovavamo a casa tua, ti ricordi? beh, poi che non mi ricordo la memoria, la memoria di questi di certi fatti non si può dimenticare non si può proprio dimenticare e lì poi io ero aggregato un po' a tutti non so il perché, avevo diversi punti di contatto sia con Milano, sia con Colico, sia con Lecco e a Milano che faceva il il tradunione, la spola era il povero Marni, il Pino Marni che con le sue sorelle è stato veramente un grande uomo che ha rischiato molto, molto, ma molto e lui mi portava gli ordini e mi ricordo una volta questo è stato già nel 45 che mi aveva dato ordine di far saltare il Ponte Grande perché avevamo avuto i lanci e i piani resinelli poi in Erna avevamo qui il materiale adatto per far saltare il Ponte Grande e io ho detto, ma porca mia far saltare il Ponte Grande un'opera d'arte di quelle lì e poi dico, noi restiamo isolati completamente perché se vi ricordate molte volte sono venuti gli aerei per farlo saltare ma non sono mai riusciti a beccarlo e loro mi avevano dato ordine e io mi sono rifiutato e lui mi ha detto guarda Cassin che rischia di andare la fusilazione e dice che la via c'è a pan per fusilare e allora per ovviare questo ho fatto saltare la ferrovia di Pradello che portava a Bergamo e lì è andato un po' e no, che mi aveva detto queste parole era il, aiutami a dire il comandante lì Giulio Lom no, quello di Lecce Fogliaresi Fogliaresi era Fogliaresi che mi aveva detto guarda Riccardo se non fai questo rischi brutto beh, io ero da pensare io non posso mica fare quello che sono ma tu devi eseguire gli ordini gli ordini dico eseguisco quelli che secondo il mio punto di vista possono essere utili ma il Ponte Grande per me dico non è una cosa da e di fatti non l'ho fatta ho fatto saltare lì e questo è un episodio e poi sono venuti tanti episodi che adesso purtroppo ecco, un episodio particolarmente visto il personaggio che sei particolarmente alpinistico ecco, qualche cosa che beh, qualche volta anche mi veniva dato l'incarico di accompagnare gli ebrei tramite il legione li portavamo a a Premana no, a Premana lì a come si chiama facevate il pizzo Gino a menaggio si, facevamo facevamo là e li portavamo a Colico da là a Colico attraversavate il lago e noi li consegnavamo a Colico sta povera gente li consegnavamo io mi ricordo sti poveri disgraziati che non sapevano camminare a Colico c'era il pelo rosso che faceva lì è che faceva il trasbordo dalla parte di là e li portava a Gravedona a menaggio poi facendo un pizzo Gino e lì poi li portavano su al Berlinghiera che erano cose ma gente non preparata gente che non camminava gente e noi non avevamo neanche da mangiare per noi non potevamo mica darne neanche troppo anche loro noi cercavamo di aiutarli sì accompagnarli però ho fatto tre viaggi di quelli lì ma dico dopo mi sono rifiutato perché mi facevano pena perché come si può portare farli camminare per due o tre giorni di fila in mezzo alle montagne questa povera gente che non che non sapeva camminare e loro poveretti avevano paura della morte perché erano e noi cercavamo anche di aiutarli sì ma però insomma ma stamattina mi raccontava la signora che mi pare anche che era Morandi no? sì quando c'è stato l'astrenamento quando c'è stata la battaglia di Erna voi l'avete portato alla Rosalba l'avete legato lui aveva le scarpettine da città per defilarli dai ursinelli l'avete portato alla Rosalba poveretto è stata un'avventura e lui poveretto un uomo un uomo anziano un uomo che non aveva mai la montagna portarlo su per la per la direttissima e l'abbiamo quasi portato di peso non di peso perché portare un uomo è come Morandi sì è legato quello era il meno che si poteva fare ma lei che non era attrezzato e beh a quei tempi sapete benissimo che l'attrezzatura non era tanto facile averla e abbiamo so che mi ricordo che gli spini aveva un paio di scarponi e li ha ceduti ma erano troppo grandi era peggio che camminare con le scarpette insomma e questo è uno di tanti episodi insomma mi ricordo quando per esempio è venuto il primo lancio ai piani resinelli adesso io non mi ricordo neanche più la coordinata cosa era no ma era una una cosa strana che adesso mi scappa mi scappa mi scappa il nome e abbiamo avuto e siamo partiti io sono partito da 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 lo stupimento di 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 cariboni da pescate eh di corsa in bicicletta viene a casa a vestirsi andare su i piani resinelli mettere giù le torce le torce ha vinto e fare la e fare i segnali eh io piloni il povero boga soprattutto eh il boga spini il butti tizioni Tony Bonaiti Tony Bonaiti poveretto si Tony Bonaiti Renzo Bonaiti quello meno però qualche volta errati invece non è mai non l'abbiamo aggregato gli ultimi momenti proprio perché non ci fidavamo avevo delle amicizie un po' strane non ci siamo mai fidati di di e dopo ci ha lasciato la pene qui e così mi ricordo che abbiamo messo giusto e poi passa l'aereo e non vediamo niente porca miseria chissà perché chissà perché e dopo abbiamo visto come qualche cosa a venire giù sono venuti giù tutte verso il Cassin verso Balabio che per poco non vanno sulla caserma delle brigate nere se sbagliavano se sbagliavano e questi due questi due filibustieri che sono venuti giù uno si chiamava Fulvio e uno Ciccio con due pistoloni quando hanno chiamato abbiamo dato la coordinata e sono presentato con la pistola in mano lo scemo da Madonna tirala via perché lui sei chintano e perché non voleva aveva paura insomma dico tu o hai paura o sei un fifone non so non capisco cos'hai e di fatti dopo ci siamo messi e lì abbiamo nascosto l'Ital americano come? l'Ital americano l'Ital loro erano erano di fatti lui parlava un po' l'inglese ma molto male insomma ecco voleva farti vedere l'americano ma dico tu sei italiano come me ho capito subito e lì questi questi ragazzi pensate che li abbiamo il Giovanni Secrista poveretto li ha tenuti in casa in casa lì a Castello per un mese che se lo prendono fucilano tutta la famiglia mi è soltanto l'ho tenuto un po' anch'io ma io avevo quattro bambini dico era un bel rischio più la mamma la sorella la moglie e fusilavano e dopo invece li abbiamo trasbordati un po' in erno un po' così in giro e lì eravate un gruppo tutto dei vecchi ragni no loro non si chiamavano ragni loro si chiamavano Arrampicatori Nuova Italia Arrampicatori e quindi però eravate tutti amici sì sì beh è logica quindi cioè cos'era un po' cioè si respirava come era l'atmosfera tra amici così anche come convinzione beh ma vedi noi avevamo eravamo amici sì amici quelli che arrampicati però abbiamo con noi ci sono aggregati molti altri che non avevano niente a che fare con la nostra amicizia per esempio i tentori i tre fratelli tentori che loro praticamente si li conoscevamo benissimo perché andavamo a sciare assieme e così e loro si sono aggregati e poi tanti altri il Funzi il povero Funzi che non veniva in montagna dopo altri che i due fratelli cioè sono due i fratelli il Funzi come si chiama Crota Crota sì i due fratelli no 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 erano giovani il 17 ottobre quando si appare sta la mente dei reginei che era su Bruno Gambilla no? sì sì c'era Pino Marnell Pino Unte poi c'era Morandi Pini c'era Pini no 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 ecco Pino era di Mandello il signore delle grigne di Mandello sì era di Mandello lui era con con la con la lui era con la brigata Poletti si ma anche ma anche a Mandello ci sono andate molte di quelle sì perché allora c'era il cosiddetto confronto militare e c'era tu il cuore Lorenzo il cuore il cuore della Selle il cuore era finita alla fine della Panna e lì hanno preso hanno preso il sì il povero il Marni no? rotta rotta senti il momento più brutto che ti sei visto ma io non 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 il momento più brutto è stato quando è stato il 26 il 26 il giorno il 26 aprile che sul ponte di Via Como ero sopra le cervelle del povero Pico e io avevo la bazooka in mano avevo sparato il primo colpo avevo fatto saltare il cannoncino che aveva che aveva sparato contro il povero Pico che gli ha preso proprio la testa e gli ho fatto saltare quello lì e dopo intanto che mi sono basato dietro al ponte per caricare ancora la basurca loro hanno tirato via con lui ne hanno messo un altro hanno sparato e hanno preso il terapino della ferrovia e mi hanno ferito e i miei compagni mi hanno ferito in faccia era tutto grondante di sangue i miei compagni sono scappati e loro scappavano perché mi vedevano ferito sai quando vedono il capo che è ferito hanno più paura ancora e mi ricordo che ho tirato fuori se non vi ammassero quella io mi amassero e fermatevi tutti siamo in quattro gatti loro saranno dentro più di duecento dentro e se vengono fuori facciamoci vedere per fortuna dopo poco è arrivato il piva con la con la con la si con la mitragliatrice bindata con da un caro ha dato quattro mitragliate e questi si sono saralliati tutti in cantina e dopo ho messo fuori la bandiera bianca e io e uno di Pescareni che non mi ricordo il nome uno grande ma che non era un partigiano era uno che si era aggregato agli ultimi momenti siamo andati a trattare la resa e quando mi hanno visto tutto conciato ho detto che è un mostro questo qua che viene qui ero pulito un po' ma ero ancora sporco di sangue e dice te lo do io al mostro gli dico al capitano e loro volevano ci rendevano e volevano l'onore delle armi e io ho detto l'onore delle armi e dopo anche io ero solo in mezzo di tutta questa gente armata ai fini dei denti dico va bene vi concedo l'onore delle armi però devono essere tutte senza autoratore se uno solo ha un colpo quello viene fucilato parlavo un po' sbrufavo beh sbrufavo parlavo un po' ma sai io sono sempre deciso nelle mie cose e difatti abbiamo reso hanno accettato la resa sono venuti fuori tutti incolonati e quando hanno visto che noi eravamo dieci o dodici che abbiamo portati alla scuola aperta che nel medesimo istante era qualche ora prima era arrivato giù l'osi con la sua brigata e si era installata alla scuola aperta e li abbiamo messi tutti in prigione prima di andare dentro le hanno fatte l'espoglio erano tutti imbottiti di amlire tutti imbottiti di amlire ne avevano insomma le hanno messe in due coperte le hanno legate così i quattro angoli erano due coperte piene erano circa 180 170 dopo finito questo episodio io ho detto adesso io vi lascio arrangiatevi che io vado all'ospedale a farmi ricoverare e sono stato all'ospedale mi hanno ricoverato perché io avevo qui una una scheggia che mi ha tagliato la fascia elastica è ancora dentro la sento ancora dentro adesso e avevo una scheggia qui e una qui e mi sono fatto operare e loro dopo Losi e compagni hanno fatto il processo sommario hanno fucilato tutti che se fossi stato io questo senza altro non l'avrei fatto non avrei permesso di farla ecco hai dimenticato ma il picco è morto la mattina la mattina la mattina la farfallino poi c'è un riva un riva no 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 erano lì loro noi eravamo sulla ferrovia no? sì e loro erano in corso martiri e li abbiamo circondati no? sì e il povero farfallino era con me e lui è venuto è venuto avanti ha messo fuori bandiera bianca gli altri li hanno sparati hanno ucciso i due Casella e Farfallino no 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 due però ho fatto un errore prima hai detto dalla caserma Bertha no? la scuola Bertha no? la scuola di Gislanzoni Gislanzoni certo certo sì e te te sarei lì che te c'è fai di Danè cioè ti tirai fuori di Danè io c'è un agente di pubblica sicurezza che un verbale è uno dei nostri padri in quei momenti siamo fatto il verbale del terreno infatti lui era 50 NM 50 100 NM 200 NM la certificazione c'erano ragazzi 3 milioni e mezzo 3 milioni e mezzo dopo con la polemica di chi ha pare di mezzo si fa presto a dire dopo bisogna pensare al mezzo e se ricorda che qua anche dopo rimaniamo l'ordine non è in italiano ma si scappa qualche parola qualche parola è bello ecco adesso possiamo concludere no volevo dire appunto quello che mi ha suggerito perché parlando così si salta da un palo all'altro dato che non si è oratori e tutte le cose non si se le ricorda però è giusto da dire che quando ho messo fuori la bandiera bianca prima di andare a trattare hanno fucilato questi che io non sapevo neanche perché loro erano dall'altra parte l'ho saputo dopo che avevano ucciso il farfalino e il casella cosa le brigate neve si le brigate neve le manganiello di Firenze la leonessa di Brescia il manganiello di Firenze comunque l'importazione in miranda dalla gente diceva bene ho dovuto mantenere fino a quando avevano la retina a portare i ticercani e quando dopo li hanno trasferiti ne hanno trovato ancora una buona parte di quei soldi ne avevano ancora degli altri che voi non li avete trovati quando avete fatto lo sfoglio questo è il finale è la cosa grazie a tutti Grazie.